Marco Soprano, è bello partire così, no? Ti dà una forza in più per iniziare il campionato nei migliori dei modi. Vorrei ritagliarti sicuramente il tuo giusto spazio, descrivi le tue caratteristiche tecniche e tattiche. Io sono un difensore centrale destro, prediligo il colpo di testa, la mia forza è l'agonismo. Non molo niente, insomma. Per te che sei molto giovane, che tipo di occasione è questa di Teramo? È un'occasione importante, un altro punto di crescita per la mia carriera. Il Teramo è inserito nel girone C che non faceva da tanti anni, da 23 anni. È un girone tosto, come dicono un po' tutti. Insomma, ci sono squadroni, no? Sì, diciamo che sia il girone B che il girone C sono due gironi abbastanza tosti. Sono piazze importanti e sì, sarà dura, insomma. Conosci la piazza di Teramo, hai già avuto modo di saggiare un po' il tifo, anche insomma il tifo marchigiano. Tu hai giocato l'ultimo campionato nella fermana, quindi volete in qualche modo anche giocare e dare soddisfazioni per loro? Beh, coinvolgere i tifosi dalla nostra parte sarebbe una forza in più, diciamo, e cercheremo di fare questo. È una squadra nuovissima, società nuova, tecnico nuovo. Ci sono, dicevamo, degli squadroni in questo girone C. Che tipo di campionato può fare il Teramo? Eh, si spera un buon campionato di primi posti. Poi ci sono tanti fattori che bisogna metterli tutti al proprio ordine per far diventare, diciamo, tutto perfetto. Avete conosciuto il presidente Franco Iachini, molto ambizioso. Voi siete ambiziosi? Per forza, bisogna esserlo sempre. Per forza, bisogna esserlo sempre.